Altri fiori blu Andiamo Forza, combattete! Forza, combattete! Forza! 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 Forza, combattete! Forza, combattete! Forza, combattete! Sparashy Sparashy Ah! Quell'isola è ricoperta di fiori blu Una montagna circondata da fiori blu Forse il suo arco si trova lì Continua la tua ricerca e Tsushima cadrà Basta, parla chiaro La tua ultima possibilità Lascia stare l'arco Posso aiutarvi, mio signore? Non ho altro Scelta eccellente Addio Farò un'offerta per la vostra buona sorella Un'offerta per la vostra buona Un'offerta per la vostra buona L'arco deve essere lì L'arco di Uchizu Dove sono? L'arco è maledetto La morte ti seguirà fino alla fine dei tuoi giorni Un'offerta per la vostra buona Un'offerta per la vostra buona Un'offerta per la vostra buona Non tieni la maledizione del Dremble. Prima scaccerò i mongoli dalla nostra terra, poi mi preoccuperò delle maledizioni. Dai, i rmonenti perseguiteli. Grazie a tutti. La maledizione di Ujitsune. La maledizione di Ujitsune. La maledizione di Ujitsune. Posso migliorarvi l'arco? Un arco senza pari. La maledizione di Ujitsune. La maledizione di Ujitsune. Riuzo sarà al cimitero. Bene. Ben, sei qui. Pronto a procacciarci un po' di cibo? Sono tutti qui? Chi è ancora in grado di lottare? Gli altri sono troppo affamati o malati. spero basteremo per assalire il forte. Prendere quel cibo sarà più difficile che vedere un ciliegio fiorire in inverno. C'è sempre una soluzione che spero non uccida metà dei miei uomini. la maledizione di Ujitsune. 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 Il segnale attaccate. Ti uccideranno. Se succede, vendicami. E fa razzia di cibo. Non fa ridere. Tieni d'occhio la torre. Come vuoi. Moi тру. Come vuoi. Come vuoi? Que ne sono appena attaccati tutti? Taura! Tiura! De confio dal Justice Elder ti accERiti l'an田. Io siamo inедительно. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Tutto... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ti deluderemo.